Beni per un valore complessivo di oltre 7,5 milioni di euro sono stati sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca dai finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro che hanno agito in collaborazione con lo Scico di Roma a due esponenti di primissimo piano della locale di San Leonardo di Cutro in provincia di Crotone, entrambi detenuti. I destinatari del provvedimento ai verci dell'Andrina e coinvolti nell'operazione Malapianta condotta dal gruppo della Guardia di Finanza di Crotone erano stati dapprima destinatari del provvedimento di fermo di indiziato delitto nel 2019 e successivamente condannati dal Tribunale di Crotone nel 2022 a 30 e 19 anni di reclusione. Il Tribunale di Catanzaro, condividendo la ricostruzione economico-patrimoniale svolta dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e GICO ha ritenuto i due portatori di pericolosità sociale in quanto indiziati di appartenere ad un'associazione criminale di stampo mafioso e di vercommesso, tra gli altri reati di estorsione, trasferimento fraudolento di valori, usura, disponendo il sequestro del patrimonio nella loro disponibilità, composto da aziende, autovetture, rapporti finanziari e beni immobili. Un patrimonio risultato nettamente sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e all'attività economica svolta.